Mille mila hugs a tutti e bentornati su GAME No, c'è qualcosa che non va qui Ok, ora che sono in pieno disagio in stile natalizio Possiamo partire con la storia di videogiochi In questa puntata il vostro caro zio GAMeg Vi illustrerà la storia di videogiochi della nascita Fino all'avvenimento della terza generazione di console Se non sbaglio, forse un po' di più Comunque fino diciamo al NES Per quelli più grandi di voi Vi chiedo nei commenti per favore di correggermi In quanto alcune cose essendo prese dall'internet Potrebbero non essere propriamente corrette Mi hanno fatto delle stampe con dei bordi schifosi Però va bene Comunque in questo video non prenderò la cioccolata calda O comunque non intingerò diciamo queste pietanze nella tazza Perché altrimenti potrebbero uscire fuori cose molto cattive nei commenti E preferisco non farlo Grazie perché poi ci sono dei bambini che guardano questo canale E non è il caso Specie in uno speciale natalizio Partiamo subito con la nostra classifica Nel 1947 in America Nacque il primo gioco per essere appunto giocato Su un tubo catodico Che attenzione non era una tv Ma un computer diciamo così E dopo quasi due anni dalla richiesta Il 14 dicembre 1948 Venne finalmente ufficializzato il brevetto Il gioco presentava un missile che doveva essere lanciato contro un bersaglio Ma a quel tempo la grafica non poteva essere disegnata elettronicamente sullo schermo Così i progettisti decisero di applicare delle etichette stampate su pellicola trasparente Nei punti in cui si trovavano i bersagli da colpire E qua non ve lo posso far vedere purtroppo Di questo non si trova nessuna immagine Però poi continuano ad essere sviluppati i giochi sul tubo catodico Per tutti gli anni 50 Fino ad arrivare al 61 Nel anno in cui uscì il primo video gioco distribuito su larga scala Chiamato Space War Il gioco girava su un PDP-1 Un computer entrato in commercio da un anno Al prezzo di ben 120.000 dollari Ma presto venne preinstallato su tutti i computer della deck E qua possiamo vedere il gioco Ma vi farò vedere anche le immagini poi meglio col montaggio Iniziarono così ad arrivare i primi giochi simulativi e gestionali Nel 66 nacque il primo videogioco che si poteva giocare su un televisore ragazzi Nel 67 uno dei primi giochi ha due giocatori E nel 68 arrivò già il prototipo della prima console Conosciuta come Brown Box Quindi scatola marrone Che nel 72 arrivò su tutti gli scaffali americani Col nome di Magnavox Odyssey In Inghilterra poi nel 73 In Europa nel 74 E in Italia la versione definitiva della console arrivò solamente nel 75 Anno in cui uscì Pong E la Odyssey si fece da parte per far spazio ai cambinati Poi ritorniamo su questa cosa Intanto vi faccio vedere il mitico Pong E successivamente Magnavox denunciò Atari Inc. per violazione di brevetto Nel momento che Pong era identico al gioco di tennis dell'Odyssey E vi faccio vedere la differenza Negli anni 80 Magnavox citò in giudizio altre grandi società come Colleco Mattel, Seaburg, Activision E in ognuno dei casi vinse o arrivò al patteggiamento Quindi ragazzi potete ben capire Qua c'è l'immagine del Magnavox Odyssey E anche qui ci torneremo ragazzi Comunque come potete vedere già c'era il fucile col mirino laser ottico Come più o meno a infrarossi Nel settembre 1971 alla Stanford University Fu messo in funzione Galaxy Game Un esemplare unico di gioco ispirato a Space War Che faceva partire una nuova partita a uno o due giocatori Solo successivamente all'inserimento di una monetina Due mesi più tardi Nolan Bushnell e Ted Dubney ultimarono la loro versione di Space War Chiamata Computer Space Il primo cabinato prodotto su larga scala Nonostante la produzione di 1500 esemplari Il gioco non fu di grande successo A causa dell'elevato tasso di sfida che proponeva Ma potete vedere Praticamente questi sono i primi cabinati ragazzi E li hanno inventati questi due Questi due adesso vi dico chi sono Nel 1972 Bushnell Dopo l'esperimento non particolarmente riuscito di Computer Space Decise comunque continuare a creare videogiochi Ma producendoli in proprio In nacque così l'Atari Il primo videogioco dell'Atari fu proprio Pongo Uno dei più grandi successi dell'industria videoludica Che fece vendere addirittura 19.000 cabinati E 150.000 simil cartucce Che per l'epoca erano un casino Queste simil cartucce in realtà si chiamano circuiti stampati I più grandi di voi lo sanno Io no Nel 1976 arriva sul mercato la Fairchild Channel F La prima console programmabile Ovvero dove si potevano fare sopra i giochi Quasi un computer Basata su cartucce che ha dato inizio alla seconda generazione di console Per lasciare spazio solamente un anno dopo All'Atari 2600 Che piazzò ben 30 milioni di esemplari E venne venduta in tutto il mondo Fino al 1991 Dal 77 Fino al 91 Ragazzi Una cosa impensabile al giorno d'oggi E specie per il fatto che all'epoca Uscivano molte console In modo ravvicinato per farsi concorrenza Quello che vi volevo dire è che sull'Atari Quattro programmatori più avanti Che non venivano pagati Non avevano Cioè venivano sottopagati I loro diritti non venivano messi nel gioco Non esistevano i credits nei titoli Atari Praticamente questi quattro sviluppatori si separarono E crearono Activision Vi suona familiare questo nome? Ecco Nel 78 l'industria del videogioco entra nella sua età dell'oro Con la pubblicazione da parte di Taito di Space Invaders Il quale ebbe un successo talmente strepitoso Che ispirò dozzine di produttori ad entrare nel mercato E iniziare a produrre i videogiochi Sempre nel 78 Atari pubblicò Asteroids Che diventò presto il suo best seller Età dell'oro proseguì fino a metà degli anni 80 Grazie alla nascita delle sale giochi E ai nuovi arcade a colori Come Pac-Man e Breakout Che è il gioco dove bisogna rompere i mattoncini Con la pallina che rimbalza sulla nostra racchetta Viene chiamata in gioco così Ma la barra bianca Erano anni d'oro anche per via dei primi videogiochi innovativi Che uscivano sugli altrettanto nuovi Home computer Amiga Atari 2600 Atari ST Apple 2 Commodore 64 Chi più ne ha più ne metta Ricordiamo tra i quali Eccoli qua Defender Sparatutto a scorrimento Vi metto le immagini Pure Position Con la visuale da dietro alla vettura Battlezone Con il mondo di gioco tridimensionale Ognuno di questi è stato il primo nel suo genere Adventure era stato il primo gioco di avventura Mystery House Un'avventura grafica E 3D Monster Maids Il primo sparatutto in prima persona Qua però arriviamo ai cavolacci amari Nel 1983 in mercato videoludico Entrò nella sua crisi più nera In tutto il mondo ma specialmente in America Erano gli anni del boom dei primi personal computer Dall'80 all'85 Che oltre ad offrire più RAM Una grafica più avanzata E un sonoro migliore di una console Davano la possibilità ai possessori Di copiare i giochi che giravano su cassette floppy disk Anziché le classiche cartucce ROM Quindi ragazzi C'era la pirateria Come se questo non bastasse La Commodore utilizzava una pubblicità comparativa Per il suo C64 Che si rivolgeva alle famiglie Chiedendo il perché del comprare una console Ai propri figli Distraendoli dalla scuola Quando avrebbero potuto comprare un computer Che li avrebbe preparati al college Ed ecco qui che iniziamo Già con questa cosa Che i videogiochi fanno male Già da qui partiva un po' Questa voce Vi metto le immagini del Commodore 64 Qui tutti volevano impressionare Wall Street e i consumatori Le aziende ricorrevano a reverse engineering Per imparare come fabbricare i giochi Quindi vedevano i giochi già fatti E con dei programmatori che non erano Di ambito videoludico Provavano a ricrearne degli altri Vedendo un po' come era fatto il codice Di quegli appunto famosi La Atari impiegò diversi programmatori Della Intellivision Spingendo la mattela a fare causa Con varie accuse Tra cui quella di spionaggio industriale E nel 1983 le console sul mercato Erano almeno 11 ragazzi Atari 2600 Atari 5200 Belli Astrocade Colleco Vision Colleco Gemini Emerson Arcadia 2001 Fairchild Channel F System 2 Magnavox Odyssey 2 Intellivision Tendivision E Vectrex Che praticamente Già solo a nominarle Ti senti male Stavano per essere sul mercato Inoltre Magnavox Odyssey 3 E Atari 7800 Che poi Mi sa che non sono state lanciate Almeno Magnavox Odyssey 3 Mi sembra di no E ognuna di esse Aveva un parco titoli Differente E cartucce non compatibili Con gli altri sistemi Quindi tutta questa grande scelta Di mercato Fece comprare all'utenza Subito il PC Che molto spesso Invece Presentava Il parco titoli maggiore Se le coppie di un videogioco Non venivano vendute Esse dovevano essere Ritirate dal produttore Che si impegnava a fornire Altri titoli in cambio Praticamente Io ti do Call of Duty 1 Tu non me lo vendi E io che faccio Ah beh Ti do Call of Duty 2 E tu mi ridai l'1 Perché altrimenti Ti devo ridare i soldi Di tutte le coppie Che non hai vendute Cioè capito Bisognava Cioè erano i produttori di giochi Che davano i soldi A Praticamente A chi li vendeva E questo Generò ovviamente Un scarso sviluppo Dei titoli Che dovevano uscire Molto presto Per non finire In banca rotta Le software house Giochi con cui Una console veniva Lanciata sul mercato Erano generalmente Di scarsissima qualità Ed erano sempre Basati sulla tecnologia Già sviluppata Per Pacman ed E.T Titoli fallimentari Dell'Atari 2600 Che la casa Pubblicizzò molto E per cui Produce milioni di copie Che rimasero invendute Portando così La casa videoludica Sull'orlo Della banca rotta Allora La storia del fallimento Di Atari È molto Molto strana È praticamente La storia Più complicata Sul mondo Dei videogiochi A cui ancora Non si trova La risposta C'è anche Un documentario Che ci hanno fatto Sopra Vi metto Qualche immagine In sovrimpressione Dove vanno Proprio A dissotterrare Le cartucce Nel deserto Di Almogordo Non mi ricordo Dove stava Lo scrivo Sopra E praticamente Queste cartucce Appunto Si pensava Che fossero Tutte e solo Di E.T. Che avesse Fatto fallire La casa Mentre Stando alle dichiarazioni Di Atari Non è stato E.T. Solo Ma sono stati Un sacco di giochi Che sono stati Comprati di meno E secondo Sempre Atari E molti giochi Questo è vero Avevano una qualità Peggiore Di quella di E.T. Però È anche vero Che E.T. Venne Rimandato Subito indietro Da chi lo aveva Giocato Perché Proprio Non piaceva Col fatto Che si finiva Subito E penso Anche per questo Punto Magari Rimandavano indietro Il gioco Per Riavere i soldi O comunque Lo rivendevano In qualche modo Poi Atari Fra l'altro Su Playstation 2 Pubblicò Dei giochi Tra cui Asterix E Obelix XXL E XXL2 Quindi Dei giochi Continuarono Ad essere prodotti Da Atari Ma non so In che modo Si è Ritornata A fare i giochi E poi Abbia fallito Un'altra volta Perché appunto Dopo aver fatto Quegli Asterix E Obelix Ha fallito di nuovo Povero Atari Mi dispiace molto Il prezzo Del Commodore 64 Comunque Calò dai 600 dollari Iniziali Addirittura Ai 200 Rendendolo Accessibile A tutti E molti Videogiochi Vennero scontati Addirittura Fino a 5 dollari Quando normalmente Era impossibile Trovarne sotto I 35 Già era difficile Trovarli a quel prezzo Ciò Fece si Che i clienti Non acquistassero Più giochi Se non in offerta E che al lancio I giochi Non vendessero più Tra clienti Stufi di giochi Di scarsa Qualità Sviluppatori Sottopagati Con diritti Non riconosciuti Il Commodore 64 Che si diffondeva Sempre di più Activision Fu una delle poche case Che riuscì a restare in piedi Invadendo completamente Il mercato PC Con titoli Di buona qualità Il 1983 Nonostante tutto Fu forse l'anno migliore Per la storia Degli arcade Il più famoso Era indubbiamente Dragon Slayer Il primo videogioco Sul laser disc Antenato del CD Con scene disegnate a mano E quindi una grafica Anche in america Comunque iniziarono a spuntare Console Mi sembra di casa Siga Comunque diciamo che La grande rivincita Viene attribuita a Nintendo Perché appunto Mentre in america Il mercato Era più o meno Alla deriva Nel 1983 Proprio Usciva in Giappone Il NES Ovvero il Nintendo Entertainment System Di cui la versione Giapponese Era questa qui Il Famicom Si chiamava Family Computer Mentre Il NES Era questo qui Che comparato Alla prima console Ovvero Il Magnavox Odyssey Eh? Notate qualche Somiglianza? No ma dico giusto Qualcuna eh? Brava Nintendo Che copi tutto Va bene Il NES comunque Risollevò il mercato Videoludico Grazie a titoli Qualitativamente Superiori A quelli proposti Dalle console Negli ultimi anni Come Super Mario Bros The Legend of Zelda Punch Out Metroid Ninja Gaiden E Castelvania E grazie al suo Innovativo Gamepad Con il famoso D-pad Che praticamente È quello Con le crocette Inoltre Nintendo Introdusse Il modello Lavorativo Adottato Oggi da tutti In licenziatare Terze parti Per lo sviluppo Di software Ovvero Eh Degli esterni Come che ne so Eh Naughty Dog Che lavora Con Sony Oppure Credo comunque Che Eh Col fatto che Il parco titoli Su ogni console Fosse diverso Non ci fossero Proprio Giochi Se non prodotti Se non prodotti Dalla Dalla stessa casa Che di cui Di cui si aveva La console Quindi ad esempio Non avremmo potuto Giocare Un Call of Duty Un qualunque Multi piattaforma Appunto Non esisteva Una buona pubblicità Il successo Di questi grandi titoli Portarono il NES Nel mercato americano Nell'ottobre Dell'85 Nell'87 La console Era già diffusa In quasi Tutto il resto Del mondo Restando in auge Fino al 1995 Però mi sembra Che in Italia Arrivò nell'89 Se non sbaglio Qua abbiamo Un po' di arte Nei videogiochi Che comunque Non fa male E possiamo notare La somiglianza Tra La Ellen Page Del gioco E quella Normale E stessa cosa Per William Dafoe Del gioco E quello normale Poi Possiamo notare La somiglianza In Until Dawn Di Aiden Panettiere Il gioco È normale E come al solito Il gioco È normale Di Raimi Malek Inoltre Ci sono Un sacco Di registi Compositori Che hanno Lavorato Per i videogiochi Ma queste cose Le vedremo Più avanti Se vi andrà E In caso Vi farò Anche Un seguito Della storia Dei videogiochi Andando a vedere Le varie Generazioni Di console Future Rispetto a Quest'epoca Insomma Molti sostengono Che senza Il NES Di Nintendo Noi Non avremmo Più visto I videogiochi Come li conosciamo Ora O magari Qualche indie Sarebbe arrivato Non so Non so bene Come effettivamente Si sarebbero Evolute le cose Comunque Questo Era Il mio Regalo Di Natale Verso di voi Diciamo così Inoltre Se vi va Di avere Qualche gioco In regalo Per questo Natale Vi lascio Nella pagina Facebook Più o meno Ogni giorno Dei link Con i vari Giochi Che stanno Dando gratis Per il momento Ne stanno Dando gratis Sia su PC Che su Xbox 360 Quindi Approfittatene Se siete Possessori Di queste console Vi chiedo Come ultima Cosa Se potete Fare voi Un regalo A me Sapete Che non Vi chiedo Mai Queste cose Però I like Non li chiedo Perché Se vi piace Il video Ovvio Che lo mettete Se non Vi piace Non lo mettete O mettete Dislike Questo È ovvio Da stupidi Dire Mettetemi Like Mettetemi Like Però Volevo Chiedervi Se vi va Di inserire Questo video Nei vostri Preferiti O in una Playlist Di speciali Natalizi O di storie Di videogiochi Videogiochi In genere Cosa che io Faccio molto spesso Di inserire Video nelle Playlist E Se volete Per aiutarmi Ovviamente Se vi piace Il canale Quindi Se volete Vedere Un Miglioramento Della qualità Ma Anche Magari Avere Più avanti Dei Contest Dei Giveaway Non lo so Che vi regalo Qualche gioco Ma Parliamo Di quando Avrò Molto Più che Mille Iscritti Quindi Se mai Ci arriveremo Comunque Se volete Aiutarmi Ad arrivare Più in alto Come iscritti Basta Semplicemente Che condividiate Questo video O sulle vostre Bagheghe Dei social network Se non vi vergognate A farlo E non vi insultano O altrimenti Vi mandate Come messaggio Privato Questo video Qualunque altro video Dei miei Mandate appunto Come messaggio privato A qualche vostro amico Su whatsapp Su messenger Dove volete E gli fate vedere appunto Questa piccola creazione Se pensate Possa essere Di suo gradimento Io vi ringrazio Davvero molto Con questo Cappello da babbano E vi saluto Vi lascio Così Ma vi auguro Soprattutto Un buon natale Un buon anno nuovo E comunque In generale Buone feste Mh mh Mmmmmmm...